L'occasione è quella dell'Assemblea Generale del Südtiroler Wirtschaftsring. A fare gli onori di casa il presidente Christoph Oberauch. Di fronte ad una platea formata dai protagonisti della scena economica locale, il numero uno del Wirtschaftsring ha analizzato la situazione altoatesina attuale. In Alto Adige abbiamo un leggero miglioramento, abbiamo una crescita del 1,3%, che è una crescita minore contro l'Austria, contro la Germania, contro la media europea, ma per la prima volta anche una crescita minore che i cosiddetti paesi del nord-est italiano, Veneto, eccetera. Questo ovviamente ci fa pensare, però dobbiamo anche ammettere francamente che noi siamo partiti da un livello maggiore. Quando c'era la congiuntura in tutto il mondo, noi siamo ancora cresciuti, gli altri sono diminuiti, quindi ogni tanto anche le statistiche mentono. Riduzione della burocrazia, revisione delle procedure di verifica da parte di Equitalia, miglioramento della raggiungibilità della provincia di Bolzano. Sono queste le principali richieste avanzate al mondo della politica. Dono Valder, presente all'appuntamento, ha confermato l'impegno per arrivare ad una riduzione, una diminuzione del 20% della burocrazia, il completamento delle principali infrastrutture. Le sfide per il futuro non mancano, ma i vertici del Wirtschaftsring sono ottimisti già nel breve e medio termine. Io penso che in tutto il mondo, se stiamo riprendendo lentamente, per riprendere i livelli del 2007-2008, ci vorrà ancora un anno o due anni. Comunque siamo in netto miglioramento. Tra gli obiettivi primari, oltre a quello di conservare i posti di lavoro, figura l'obbligo di evitare che le aziende altoatesine vadano ad investire all'estero, attratte da migliori condizioni come, ad esempio, costi dei terreni minori e certezza del diritto in caso di contenziosi.